Ciao ragazzi, ieri sono andata alla giornata di porta aperte del canile Lidacunio. Ero andata a visitarlo quando volevo prendere Nocciolina, poi alla fine l'ho preso in un altro canile in cui faccio volontariato. Però è stato comunque bello venire qua. L'ho portato anche Nocciolina e ha conosciuto molti cani. In questa giornata si possono anche adottarli. Qui facevano il percorso. E qui sono anche i gatti. Ecco qui, i gatti. Qua tutte le cose che si possono comprare e potete seguire su Instagram e Facebook. Io li seguo su Instagram. E poi siamo andati a una festa del mio paese. Abbiamo mangiato, è stato tutto molto buono. C'era un sacco di buffa, infatti il pranzo vero e proprio abbiamo mangiato pochissimo. E comunque è stato buono, c'era anche un cavallo perché era in mezzo alla campagna. Poi c'è stata la musica e niente, ciao! 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 C'è stata la musica e niente, ciao!